Senatore Saccone, l'Italia ha detto più volte è stata lasciata sola a gestire questa emergenza, è mancata se non altro una regia europea, c'è un po' di responsabilità anche per esempio di un gruppo grande, maggioritario come il PPE? Mi permette di dire innanzitutto che la questione della Libia non si risolve in Libia ma si dovrebbe risolvere a Bruxelles. Il problema è che ci sono questi fomentatori dei sovranisti che invece di coordinare delle politiche estere comuni come Unione Europea ognuno va a trattare per i fatti suoi, in Libia ci sono interessi strategici della Francia e ci sono interessi strategici dell'Italia, quindi noi dovremmo sederci con i francesi e dialogare sulla Libia, invece noi che cosa facciamo? Abbiamo il Vice Presidente del Consiglio... Ecco, sederci con i francesi o cercare una regia europea? Innanzitutto io mi metterò seduto accanto al Paese che mi è seduto accanto, quindi è un Paese alleato, cercare di capire con i francesi come uscire dalla crisi libica, il problema è che noi abbiamo il Vice Ministro Di Maio, capo dei 5 Stelle che va a Parigi e legittima i gilie gialli, quindi comprende quanto... Beh, ora non più, diciamo che sia un po' evoluta. Ho capito, ma lei si mette nei panni dei francesi che vogliono magari aprire un dialogo con noi per cercare di affrontare la questione libica, si ritrovano il capo di un partito, Vice Presidente del Consiglio che va a Parigi e legittima quelli che mettono a ferrofuoco la capitale francese. Quindi il dialogo è assai difficile e in questi termini purtroppo senza dialogo difficilmente si può costruire la pace. Ecco appunto, l'altra faccia della situazione libera è proprio l'emergenza migranti che non è proprio una competenza su cui il Parlamento europeo può decidere tanto, ma forse rappresenta uno dei fallimenti principali dell'Unione Europea nel suo insieme, dalla gestione degli sbarchi alla questione delle quote. Solidarietà, diceva l'Onorevole Forenza, proprio poco fa il Presidente della Camera Fico ha detto l'Europa ha lasciato inattuati i principi di solidarietà e di equa ripartizione proprio in tema di migranti. Allora, dividiamo in due la questione. Non c'è dubbio che l'Europa si sia comportata in modo egoistico sulla questione dei migranti, su questo nessuno può discutere. Però, come ha detto anche la collega, va detto a chiare lettere che quando c'è stata la possibilità di modificare il Trattato di Dublino per una equa distribuzione dei migranti, l'attuale compagine governativa giallo-verde si è opposta, ha votato contro. Come lei saprà benissimo, è il Consiglio europeo quello che decide se adottare o meno un provvedimento. Ecco, sa chi sono i nostri più grandi avversari? Non sono i francesi e i tedeschi, sono gli alleati di questo governo, gli ungheresi, i polacchi, gli austriaci, i famosi Visegrad. Quindi questo governo da un lato chiede, come dire, maggiore sicurezza dei confini, dall'altro però si allea con chi vuole lasciare soli sia l'Italia sia gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Da dove bisognerebbe ripartire? A mio modo di vedere bisogna ripartire da Bruxelles. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, l'Italia deve cambiare le sue strategie in politica estera, non può allearsi con chi vuole lasciare soli gli italiani. Deve sedersi a tavolo con i francesi, i tedeschi e trovare una regia, una cabina di regia per gestire un fenomeno del genere, che è di portata storica mondiale. Non possiamo pensare di risolvere i problemi a Lampedusa. Una volta che sono arrivati a Lampedusa i problemi purtroppo sorgono. Dall'altro lato va detto a chiare lettere, noi dobbiamo sapere coniugare, da un lato l'esigenza nobile della solidarietà, ma dall'altro anche la sicurezza del paese. Io come cittadino italiano voglio sapere chi entra nel mio paese, è un mio sacrosanto diritto. Cambiamo argomento, veniamo all'economia e conti pubblici, Italia verso la recessione, crescita a zero, ci sono i moniti della Commissione Europea, dell'Ecofin per ridurre deficit. E debito, questa è la settimana del DEF. Riparto con lei, perché lei poi lo sta seguendo proprio in prima persona in Parlamento. I fronti che si contrappongono a livello europeo sono i soliti, rigore contro flessibilità, ma non solo. Come coniugarli? Come trovare un equilibrio? Prima di tutto bisogna dire la verità. Se non si dice la verità al popolo italiano, a mio modo di vedere, se io fossi un ministro, farei un passo indietro e mi dimettei. Ebbene, quattro mesi fa, cinque mesi fa circa, il ministro dell'economia del nostro governo è venuto in Parlamento e ha previsto per il 2019 un PIL dell'1,5%. Oggi tutti i dati reali ci dicono che ci aggiriamo intorno allo 0,3 e 0,4. Tutti gli istituti, non solo l'Ocse, non solo la Commissione, ci dicono che noi chiuderemo l'anno a 0,2 e 0,3 addirittura in recessione. Allora io innanzitutto mi aspetto come ministro dell'economia, che ha detto una falsità o una, come dire, imprecisata comunicazione al Parlamento, venga al Parlamento e ci spieghi perché ha sbagliato. Dopodiché io ritengo che questo Paese, a forza di dare tutto a tutti, che non è male, ma se non crea investimenti, non crea mai occupazione, questo è un governo fermo, sono immobilità di loro, non parte un cantiere, non parte un'opera pubblica e senza questa forma di sostegno, altro che il radio di cittadinanza, non ci sarà occupazione e quindi cresce il debito. Magari all'interno di una cornice europea, anche un piano degli investimenti europei. Qui non si tratta di superare i parametri europei, qui si tratta di capire perché noi facciamo più debito. Facciamo più debito per costruire, per creare occupazione. La fermo qui. Allora, vi costringo a fare un po' di slalom tra diversi argomenti, ma così ne affrontiamo di più. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la Brexit. Mercoledì c'è il consiglio straordinario dei 27 per decidere se accettare la richiesta di rinvio al 30 giugno della Premier May. Sullo sfondo c'è anche l'ipotesi che la Gran Bretagna partecipi a queste elezioni. Insomma, tra ipotesi di rinvio e Brexit senza accordo sicuramente avrà una conseguenza tutto ciò sullo scenario europeo. Ma quali conseguenze prevedete e che cosa ci insegna? Lei era anche in Europa in questi anni. Che cosa ci insegna la vicenda della Brexit? Per lei, Saccone, come se ne esce secondo lei? Innanzitutto, descriviamo l'attuale situazione. Siamo nel grande caos e siamo all'angolo. Questo l'ha detto con estrema chiarezza. Io però faccio anche autocritica da europeo, prima di tutto, prima di essere un parlamentare. L'Europa ha cancellato la sua anima. Quando nel 2005 si dovrebbero discutere i trattati, noi avevamo chiesto come moderati, come democratici cristiani, l'inserimento della nostra tradizione giudaico-cristiana perché con quell'elemento vuol dire che l'Europa avrebbe messo al centro non i parametri, ma la persona umana. Questo non è accaduto. E queste sono le conseguenze. Queste sono le conseguenze. Dopodiché l'altro giorno con il segretario nazionale Cesa stavamo in Calabria e c'è una visione, come dire, non esatta dell'Unione Europea. Pensate che l'Unione Europea ha dato all'Italia 43 miliardi di euro per quanto concerne le regioni italiane. Programma 2014-2020. Sa quanto hanno speso i nostri governanti? Appena il 3%. Che colpa ha l'Unione Europea se abbiamo una classe dirigente che governa le regioni e non ha una visione europea? Che colpa ha l'Unione Europea? Mi fa venire in mente però un sondaggio che è uscito di recente che dice che in Italia la fiducia degli italiani verso l'Unione Europea negli ultimi dieci anni è passata dal 73%, pensate, al 37%. Come ce la spieghiamo? Io innanzitutto confudo questi dati perché nessuno mette in discussione l'Unione Europea. Poi c'è, mi perdoni se lo devo ripetere, il Presidente Di Maio che parte fuori dall'Unione Europea, poi ci dice fuori dall'Euro oggi ci dicono che sono dettati convinti europeisti. Guardate, la verità non è quella. La verità è che noi oggi dobbiamo lavorare per credere di più in questa Europa. Perché senza Europa noi non possiamo competere nel mondo, nello scacchiere mondiale né con la Cina, né con l'India e né tanto meno con gli Stati Uniti d'America. Io, mio figlio, che cosa gli voglio lasciare? Gli voglio lasciare un'Europa che torna indietro di 70 anni con il rischio di un conflitto o voglio invece lasciare un'Europa che mette al centro la persona e che quindi si prende cura anche dei suoi bisogni? Io mi sto impegnando come Udc, come PPE per costruire un'Europa migliore. Allora, siamo arrivati alla fine del vostro tempo e del tempo generale. Il Parlamento Europeo ha promosso la campagna Stavolta Voto hashtag Stavolta Voto per invitare appunto a votare i giovani ma non solo. Io vi chiedo di usare il poco tempo che vi rimane per convincere un potenziale elettore giovane o non giovane a votare e perché? Onorevole Saccone. Innanzitutto di andare a votare. Questo è il nostro appello, in primo luogo. In secondo luogo dovete scegliere chi vuole un'Europa più bella un'Europa più democratica e chi vuole che in Italia abbia, ci sia un'Italia che conti di più in Europa. Chi ci sta governando ci sta isolando. Oggi noi abbiamo la fortuna di rappresentare la più alta rappresentanza in Parlamento. Il Presidente del Parlamento Europeo è un italiano, Antonio Tajani. Abbiamo il Presidente della BCE. Ecco, con i sovranisti tutta questa dinamica e questi equilibri verrebbero cancellati. Allora mi permetta di concludere con una frase. Io sono di nazionalità italiana ma il mio futuro è l'Europa. Grazie ad Antonio Saccone per l'Udc.